Cominciamo a numero uno ed è il momento di Mariangela La giuria voti per la numero uno per la sua eleganza Andiamo in freddo in freddo perché ci siamo con noi Grazie Mariangela Prego E' il momento della numero due, Immacolata La giuria voti per la numero due La giuria voti per l'eleganza della numero due Ma il corpo urla vendetta Prego La numero tre Deborah 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 La giuria voti per la numero quattro La giuria voti per la numero quattro Lorena E' la numero quattro Lorena E' la numero quattro Lorena E' la numero quattro Lorena Vogliamo mettere due gerani Thomas Clay lo vedo molto La Giulia Votti La Giulia Votti Per la signora Lorena Lorena Numero 5 Numero 5 E te E la mattina La Giulia Votti Lo vedi Te l'avevo detto Te l'avevo detto Lei te la quinto Non è che devono avere Forse il pisello Possono avere anche la vagina Ed è lei Mi sento La Giulia Votti Numero 6 E assunta Ma lei vuole essere una sposina Quindi è una vergine Credici La Giulia Votti E andiamo avanti con la numero 7 Fatima Marren Biletave E grazie La ценera платula Tranquilla La Giulia Votti Questa è la plana Nura La giuria, cosa vuoi? Ma lei che è un giornale? Questa è una vittura da sera, brava Fatima! La giuria, io ovviamente non mi escondo, basta, io ho votato, scusa, scusa, se dopo me lo regali ti faccio vincere, ci stai? Amore, l'abito, sei un cavallo da monta, come cazzo ti dirà l'abito? Vieni a un tono, basta, 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 prego, ma da, mica io sei convinta, ma da, 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 ma da. La giuria, 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 la giuria alla giuria voti, la giuria voti, la giuria voti, la giuria voti tanto, ad ombra io non ti vedo votare, ma che tutto con la voto col pennello, perché le parti, se stemi la parrua e i capelli, l'extension, hai il coraggio da vendere, tu non parlare che sei perché hai una casa frantesca, ultima è la numero 9, Alessandra Grazie La giuria voti, la giuria voti per la signora numero 9, Alessandra Alessandra, avete votato? Io continuo a non vederlo, che cosa vuoi? Ma dovate subito? Grazie Alessandra Grazie Alessandra, allora Grazie 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 Grazie